Ricorda a tutti di non andare via perché subito dopo l'estrazione dei biglietti della botteria ragazzi Tredicesimo Undicesimo caro figlio Vito Nicola Eccolo qua Dicimo posto per Maurizio Tdb Maurizio Pavoletto Settimo posto Giovanni Berdotti Settelaghi 2.000 foto Abbiamo poi in due pari neri che è il quarto posto Alivieri Di Paolo Gentile Antonio Secondo posto della Whipple Utecchia Francesco Richiamo Utecchia Francesco Secondo posto Secondo posto E poi chiamo il vincitore di questa categoria che è Tauro Cadavisi Un bravo Sant'Avolo Bravo Grazie 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 Grazie.